Ritorno alle origini di atleti, allenatori, professionisti che partendo dall'oratorio o dal campetto dietro casa hanno fatto fortuna. È il caso ad esempio di Mauro Berruto, allenatore torrenesissimo, coach della Nazionale Italiana di Pallavolo, che ha conquistato una medaglia di bronzo pregiata e importante alle Olimpiadi di Londra 2012. Ieri c'è stata una festa in suo onore all'oratorio San Bernardino, Borgo San Paolo, da dove Berruto ha mosso i primi passi come pallavolista e poi come allenatore. Dovremmo avere le immagini girate da Alessandro Baratto, poi abbiamo anche un'intervista, ma forse al telefono abbiamo anche una cara amica di Berruto che ci ha ispirato e ha organizzato questa festa. Sonia, ci sei? Ciao Cristiano. Grazie, grazie mille. Allora tu sei un'amica di lunga data di Mauro Berruto e sei un po' l'organizzatrice di questa domenica di sole di festa lì all'oratorio San Bernardino. È stata una bella festa? È stata una festa bellissima perché Mauro è sempre il ragazzo di Borgo San Paolo che non si è montato la testa e che quindi ci ha concesso un bellissimo momento di condivisione, di gioco insieme a noi. Ecco, noi vediamo le immagini, si è presentato Berruto con questa bella maglietta col numero 12, insomma erano in tanti a fargli la festa. Assolutamente sì, erano tutti quelli della nostra epoca che quindi giocavano a pallavolo con lui, si facevano i giochi di squadra e abbiamo riproposto anche questo durante tutta la manifestazione. Allora, piccola correzione per la nostra regia, Berruto si chiama Mauro, eh? Mauro Berruto. Mauro, no? Perché abbiamo messo Paolo Berruto ma è un piccolo qui pro quo che può accadere. Com'è stato accolto? Si è presentato con la medaglia, no? Perché in realtà... No, perché lui non ce l'ha la medaglia purtroppo, ma gliene abbiamo data una a noi provvisoria. Ma come non ha la medaglia? L'ha conquistata? L'ha conquistata, ma diciamo, ecco, qui nell'immagine si vede l'arrivo con la sua famiglia in questo momento. L'ha conquistata, ma purtroppo al mister non viene data la medaglia. Ma pensa che in giustizia olimpica... Noi abbiamo l'immediato. Pensa che in giustizia alle Olimpiadi danno le medaglie agli atleti, ma non agli allenatori o ai dirigenti. Assolutamente sì, è così purtroppo che dobbiamo fare. Senti, è bello questo ritorno di un campione, sebbene alla portata di tutti, nell'oratorio delle sue origini. Ha confermato anche che l'oratorio, all'ombra della chiesa, ha ancora una sua valenza sociale. Sì, assolutamente. In questo oratorio viene fatto molto sport, ci sono varie associazioni, e quindi Mauro è diventato un po' il mentore di questo oratorio. I ragazzi erano tutti entusiasti di vederlo e di conoscerlo, perché comunque non è facile incontrare questi personaggi tra la gente normale. Ecco, invece lui è assolutamente una persona normale, ha una famiglia normale e si concede in un modo veramente speciale. Ecco, è stato per noi un giorno molto molto bello. Ecco, noi vediamo le immagini sotto la rete, anche perché poi c'è stata una partita dimostrativa. Ah, più di una partita. Sì, sì, è stato proprio un torneo tra giovani, tra meno giovani, tra proprio gli anziani. Avevamo paura che capitasse qualcosa, perché non erano più tutti in forma. ormai sono vecchiotti, ma è stato molto molto bello.